Sta ormai calando il sole qui a Los Angeles E3 2015, è l'ultimo giorno e oggi ho avuto l'opportunità di vedere con i miei occhi Just Cause 3 che è uno dei titoli che personalmente sto attendendo di più per quest'anno. È un titolo che porta avanti la trilogia di Avalanche Studios e lo fa nella maniera più cacciarona esistente con un sacco di esplosioni, un sacco di elementi che sicuramente piaceranno ai fan che amano questo genere di giochi. Ma questo sandbox quest'anno ha la particolarità di essere ambientato su di un'isola mediterranea che in qualche modo fa la parodia del fascismo in quanto il dittatore da sconfiggere questa volta si chiama Diravello, l'isola si chiama Medici e fa il verso a Mussolini, a Francisco Franco, a Gheddafi, insomma i dittatori del Mediterraneo. Anche la bandiera dell'isola Medici ricorda molto la bandiera dell'Italia, una bandiera dell'Italia messa in verticale un po' come la bandiera dell'Ungheria con il mezzo delle stelle. Insomma ci sono tanti elementi che ricordano il nostro paese ma fortunatamente niente pizza, mandolino e mafia ma al suo posto una dittatura abbastanza violenta, militare che sta cercando di conquistare il mondo. Rico Rodriguez chiaramente è chiamato a fermarla e per farlo oltre a sconfiggere gli scagnozzi del generale Diravello è anche chiamato a distruggere alcuni simboli del regime tra cui delle statue piuttosto che degli edifici che producono energia elettrica o che comunque sono utili allo scopo militare del governo. Il punto è che per distruggere questi simboli, questi palazzi, questi edifici lo si può fare in tutte le maniere più creative esistenti ovvero ci è stata mostrata una sequenza in cui bisognava demolire una statua del dittatore una statua con una mano tesa in segno di saluto. Ebbene come ha fatto a distruggerla? È stato utilizzato un rampino legandolo alla mano poi l'altra metà, l'altro capo del rampino è stato legato alla faccia della statua quindi il rampino è stato retratto e la statua ha iniziato a prendersi a pugni in faccia questo è solo uno dei modi per poter portare a termine la missione si poteva ad esempio scardinarla con un trattore oppure legarla a un elicottero e farla decollare o più semplicemente farla saltare con della dinamite o con un lanciamissili insomma tutto sta nelle mani del giocatore è tutto nelle mani della creatività del giocatore che può trovare il modo più intelligente o più creativo o più assurdo per poter distruggere gli edifici tutto questo è accompagnato da un sistema fisico da un motore fisico che ci ha lasciato a bocca aperta davvero le esplosioni sono fantastiche ma non solo dopo che c'è un'esplosione tutti i pezzi provenienti dalla deflagrazione parola difficilissima vengono lanciati in giro per la mappa in maniera molto realistica e questo ha permesso non soltanto questo genere di effetti speciali ma anche di utilizzare il motore fisico a vantaggio della distruttibilità del mondo in pratica immaginate una situazione in cui c'è una grossa cisterna di forma sferica si possono far saltare i piloni che la reggono quindi la cisterna inizia a rotolare colpisce un edificio per esempio in questo caso ci hanno mostrato delle torri queste torri iniziano a cadere creano un effetto domino tutto esplode e alla fine da una distanza di sicurezza possiamo goderci un enorme gioco pirotecnico questa è tamarraggine allo stato puro che piacerà sicuramente ai fan inoltre è stato arricchito il sistema con cui ci si sposta all'interno dell'isola di Medici ovviamente ci sono le auto, ci sono le navi, ci sono i veicoli aerei tra cui appunto aerei, jet, elicotteri eccetera ma questa volta si aggiunge alla formula anche una wingsuit una tuta alare che combinata con il rampino ci permette di decollare prendere velocità volare a pochi metri dal suolo e quindi alla fine aprire le paracadute oppure riutilizzare il rampino per guadagnare quote e continuare il proprio volo una meccanica che un po' ricorda quella vista in Batman in Batman che ci consente di salire di una sporgenza e quindi lanciarci con il batmantello con la differenza che la tuta alare è molto più veloce di un qualunque batmantello e quindi diciamo è un vero e proprio mezzo di trasporto il gioco è veramente molto promettente sembra incredibilmente divertente sopra le righe e se tutto questo sarà accompagnato da una storia intrigante beh si prospetta qualcosa di veramente imperdibile in ogni caso se avete amato la serie se amate Just Cause 2 Just Cause 3 è un Just Cause 2 più 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 quindi non ci sono dubbi che vi piacerà e inoltre se amate i giochi sandbox questa potrebbe essere davvero una bellissima sorpresa quindi Just Cause 3 uno dei titoli più belli che ho visto qui alle 3 ho detto tutto ci vediamo alla prossima Ciao! 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 Ciao!